Incidente mortale lungo il raccordo autostradale a Rezzo Battifolle, un tremendo impatto tra un'ape ed una moto nel quale ha perso la vita un 81enne Nereo Agnolucci. Gravemente ferito anche un giovane centauro, un 19enne a retino. È successo attorno alle 10.15 sulla strada statale 679 all'altezza dello svincolo Case Nuove di San Giuliano. Secondo quanto ricostruito l'anziano alla guida del motocarro, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro la moto. I soccorritori del 118, intervenuti assieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno solo potuto constatare il decesso dell'81enne. Il 19enne è stato invece portato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Il traffico, a seguito dello schianto, è rimasto bloccato in entrambe le direzioni sino a mezzogiorno. Resta adesso da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. I mezzi sono stati sequestrati da Salma del deceduto e è stata trasferita all'obitorio dove verrà sottoposta a ricognizione cadaverica prima di essere restituita alla famiglia. Come atto dovuto, a seguito dell'accaduto, è stata anche aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Spetterà adesso alla magistratura stabilire eventuali responsabilità.